Musica Hanno cambiato un pochino il modo di giocare, più che cambiato diciamo hanno soluzioni un pochino diverse davanti perché Neymar è un giocatore un pochino diverso da quello che poteva essere il giocatore l'anno scorso che giocava sulla sinistra, un giocatore che attacca anche alla profondità, quindi hanno cambiato un pochino le soluzioni offensive oltre a quelle che gli danno Messi, Xavi, Niesta, lo stesso Sanchez, Fabregas, quindi sarà una partita molto difficile ci vorranno 100 minuti di grande pazienza Grazie